Allora, andiamo velocemente da Giuseppe Zannone, capelli a testa alta, perché poi vedremo le immagini di... Ho una domanda per Zannone. Sì, vai. Parte la giacca, vabbè. Sì, che frizza, frizza. Gianni, Gianni. Giuseppe. Giuseppe, io ti chiedo, è una vita che voglio chiedere, ma perché uno deve venire da te e non da un altro? Ecco, mi sembra una bella domanda. Perché ha delle giacche bellissime. Eh? Dico perché ha delle giacche bellissime. Grazie, Anna. Immaginiamo il cliente, scusami, immaginiamo il cliente tipo, ce l'abbiamo qua. Perché è una funzione molto importante, innanzitutto, non solo per un lato estetico, ma anche per un lato di protezione alla cute. La cute, quando non ha i capelli, può subire un sacco di estetismi, come voglio dire, ecco, piccoli batteri, piccole infezioni, che comunque possono portare problemi. No, non si sente. Si sente. Si sente. Possono creare chiaramente un'eccessiva caduta. A quel punto noi gratuitamente offriamo un controllo in modo tale che possa arrivare da noi, col massimo della riservatezza, diamo una diagnosi, un percorso giusto che possa essere di tipo estetico, di rinfortimento o di tipo chiaramente parafarmaceutico, per cercare di recuperare al meglio le condizioni. Mi è molto divertito, che ho saputo, ho letto un po' di cose, che tu vieni da una famiglia storica che faceva parrucche. Facevamo le parrucche, sì. Facevamo la tradizionale parrucca fatta a mano, ricucita a mano e poi man mano l'abbiamo chiaramente. L'evoluzione della specie. L'evoluzione della specie fino ad arrivare ad oggi, che formuliamo chiaramente la ricostruzione proprio di un impianto. Questo da quanti anni? Tuo nonno, tuo padre? Ma saranno... Due generazioni. Cento anni, forse. Cento anni? Eh sì, siamo di Napoli, per cui questa generazione dà la tradizionale lavoro fatta a mano della selezione dei capelli fino ad arrivare ad oggi, con questa evoluzione tecnica degli impianti che ci permettono tranquillamente di rintegrare a quello che chiaramente è la parte bancaria. Quindi, test gratuito? Facciamo un test gratuitamente, possono chiamarci senza nessun impegno, fissare un appuntamento. Vovovov.giosettazionale.com E diamo tutto quello che chiaramente possono essere le informazioni gratuitamente, ci tengo a precisare. Oppure inviarci delle foto attraverso Whatsapp, in modo tale che... Poi mi raccomando, la cosa importante, anche chi è sotto chemio, quindi ha anche il problema, probabilmente, della caldo di capelli, avete delle soluzioni. Certo, poi abbiamo delle soluzioni momentanee per chi si sottopone a chemoterapia, per dare la possibilità anche di poter superare il percorso con molta facilità, senza sentire tanto del problema. Grazie a Giuseppe Zermoni, la Pelle Tessa Alta.